Carissimi amici di contigi.news, benvenuti finalmente alla pizzeria Acqua e Farina di Ghiaccio Serbattisti II in Biella. Oggi insieme a Nicolò conosciamo i prodotti locali biellesi promossi appunto dalla sua pizzeria insieme ad alcune novità. Nicolò ci puoi raccontare questa... Buongiorno a tutti, certamente, allora adesso siamo ripartiti dopo un breve periodo di ferie e siamo partiti con delle novità. Abbiamo voluto incentivare i prodotti del nostro territorio e siamo partiti con una vasta gamma di birra biellesi, del birrificio Biri di Trivero, di ottima qualità, per tutti i gusti e poi in alternativa abbiamo messo anche la BUM che è una bevanda energetica sempre locale di indiella. Ecco, novità, ecco, di certo che ferie non sono state proprio ferie. No. Quindi, diciamo, che cosa è successo in questa settimana che i nostri lettori si sono chiesti? Praticamente questa settimana di chiusura della pizzeria io ne ho approfittato per andare a fare dei corsi giù a Torino presso una pizzeria affiliata dell'Accademia Italiana della Pizza per diventare istruttore Pizzaiolo. Ah, quindi volendo, un'indomani, anche in questo piccolo territorio biellese che ha sempre bisogno di nuove professioni, potresti essere tu veramente un istruttore e chissà che acqua farina possa essere una scuola di nuovi professionisti. Eh, ci provo. Bene, bene. E noi siamo contenti e ci congratuliamo molto volentieri con te a questo traguardo, questo successo, un successo secondo noi meritato dalla tua apertura fino ad oggi. Ed ecco, per venire a mangiare d'acqua farina ci puoi dire gli orari per venire appunto da te? Sì, certo. Allora, adesso da dopo le ferie siamo partiti per regime praticamente da mercoledì a lunedì, siamo aperti pranzo e cena con orari dalle 11 alle 14, dalle 18 alle 23, la domenica siamo aperti solo la sera dalle 18 alle 23 e poi c'è il nostro giorno di riposo che è il martedì. Quindi segnatevi bene gli orari e venite d'acqua a farina. Buona settimana e buon weekend a tutti. Grazie.